Ben ritrovati, in questo secondo video vogliamo presentarvi un'altra personalità attiva, un altro ebanista attivo nel panorama nella Milano tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. Parliamo di Giuseppe Colombo, detto il mortarino, che collocandolo nel suo rapporto con Maggiolini lo consideriamo un contemporaneo, quindi non un suo allievo, ma un ebanista che ha una propria bottega e che è attivo in modo indipendente. Questo artista è conosciuto da un'epoca relativamente recente, infatti è dalla fine degli anni Ottanta quando sul mercato antiquario compare una commode firmata Giuseppe Colombo, detto il mortarino, datata 1774, che ci ha consentito di conoscere questo artista e di capire la produzione da lui licenziata. Negli anni Settanta, infatti, il mortarino produce dei mobili che dimostrano ancora un gusto pienamente rococco, ad un'altezza cronologica nella quale invece Maggiolini inizia già ad aprirsi verso quello che è il gusto neoclassico che va affermandosi e diffondendosi sempre più. In realtà questa affermazione è leggermente da correggere perché sempre agli anni Settanta è databile un mobile molto particolare sia per la tipologia, perché è un inginocchiatoio che è firmato comunque dal mortarino e che mostra in questo caso un'apertura nei confronti invece dell'arte neoclassica. Anche l'utilizzo dei legni sono riconducibili ed identificabili a quella tavolozza cromatica tipica del mortarino, che pur non essendo molto vasta è ben riconoscibile. Abbiamo qui un mobile molto interessante, attribuibile al mortarino, questo mobile a ribalta, interessante per la committenza. Infatti al centro dell'anta è intarsiato lo stemma dei Belgioioso, queste panoplie militari, in ricordo quello che è lo stemma familiare, è un fortunato episodio al conferimento di questo onore, di questo stemma da parte papale nel XIV secolo per la vittoria sui Bretoni, battaglia alla quale i Belgioioso avevano contribuito, ma in particolar modo la croce di Malta, che non è più intarsiata con legni ma in avorio, è invece riconducibile a Ludovico Luigi Maria Barbiano di Belgioioso. La croce infatti fa riferimento al cavalierato di Malta, che era un titolo ottenuto proprio dallo stesso Belgioioso, quindi uno stemma che vuole dimostrare e ribadire quelli che sono anche gli interessi militari, la forza militare della famiglia stessa. Le panoplie militari sono anche molto interessanti perché ci consentono il confronto con due mobili certi firmati dal mortarino. Mi riferisco alle due comode di Palazzo Cabriani a Mantova, che sono appunto due mobili i cui cassetti presentano un motivo ad intarsio molto simile al nostro e che ci consentono, ci hanno consentito di avanzare questa fortunata attribuzione. Anche l'utilizzo dei legni, questo è un mobile impiallacciato in noce con le riserve in bois de rose, all'interno delle quali sono intarsiati queste girali fogliace, queste volute fitomorse, ci consentono dei confronti con delle altre opere, consentono di avvicinare la nostra ribalta, in particolar modo ad un tavolino, a uno scrittoio firmato dallo stesso mortarino che mostra appunto delle vicinanze con la nostra.